Io sono Luca Orsini e con mia moglie sono il titolare dell'azienda Le Cinciole. Sono Valeria Viganò e sono la metà delle cinciole, io e Luca siamo Le Cinciole. Noi veniamo entrambi dalla città e il desiderio di vivere in campagna, di andare via da quello che era proprio questo stress cittadino, la confusione, ci ha spinto decisamente a fare questo cambiamento radicale. Noi siamo entrati a fare, siamo diventati dei contadini senza nessuna scuola, ci siamo proprio, siamo dei veri e propri autodidatti che con passione hanno trapreso questa nuova attività. Questa è stata la nostra leva principale. Con tanto lavoro, tanta fatica, orgogliose di quello che siamo riusciti a creare in tutto questo tempo, comunque continuerà anche dopo di noi questo lavoro, questa brand, questo vino. Ho imparato anche che è bello fare una cosa che dà gioia, come è il vino.